Menzana incorpore sano, il Vescovo Artur Aiello apre con una citazione il suo intervento nel corso del convegno Studium Estadium con il quale il mondo della Chiesa accoglie le universiadi. Monsignore dunque non manca con la sua consuetta intelligenza di tornare sull'adozione di Parco Palatucci. Benché poveri, noi, la nostra Chiesa, la Chiesa che indegnamente rappresento, ha pensato a queste ipotesi come una provocazione fondamentalmente per il cittadino, per altre associazioni, per altre organizzazioni, per riprenderci la città e renderla bella e ridarla, rioffrirla, riaprirla perché non vuole essere una proprietà privata. Quindi adottare il verde, adottare il parco chiuso da sette anni, per noi significa pensare all'uomo, quindi non siamo quelli che pregano, che saranno con gli occhi bassi, ma che pensano anche ad una vita più vivibile qui ad Avellino oggi. Per essere aperti ad altre ipotesi, bisognerebbe avere, ai miei tempi si sarebbe detto Onassis alle spalle. L'appello è anche al nuovo sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Auguro al primo cittadino appena eletto della nostra città di guardarsi intorno, di guardare negli occhi le persone, di non guardarle dal tavolo di lavoro, ma di incontrarle e di mettere in relazione tante ricchezze. Ovviamente il sindaco da solo non è risolutivo, quindi potrà essere un buon maestro d'orchestra se troverà violini, viole, violoncelli, contrabbassi pronti a suonare con lui. Magari quella di Parco Palatucci è una provocazione anche per il sindaco? L'abbiamo pensato anticipatamente, quindi non voleva essere una provocazione per nessun politico, ma una piccola offerta da parte della Chiesa, proprio a dire ci interessiamo anche di quello che a volte la gente ritiene che appartengano ad altri. Un'occasione unica quella delle universiadi alla quale la Curia vorrà dare il suo contributo. Tratta di ricomporre queste dimensioni che sembrano in opposizione e che invece devono trovare una collocazione armonica e l'aspetto fisico e dunque la dimensione del corpo e l'aspetto intellettuale, quindi quella dello studio.